Un incontro dedicato alle parole del venerabile Don Tonino Bello sulla pace lo ha organizzato l'Associazione e gli Amici del Salento di Verona invitando nella Sala Zanotto presso Sanzeno al professor Lenoci dell'Università Cattolica di Milano con lui Don Martino Signoretto che dopo la visione del film L'Anima Attesa di Edoardo Winsper hanno tracciato la riflessione sui temi della pace, giustizia e salvaguardia del creato e a coloro che Don Tonino indicò come i costruttori di pace. Una serata questa che si è completata con la recita di poesie e preghiere scritte da Don Tonino. Siamo assolutamente felicissimi di questa iniziativa che abbiamo desiderato con tutto il cuore davvero, soprattutto in un momento in cui si parla, tutti parliamo di pace, sentiamo veramente il bisogno di affidarci a delle figure appunto come ricordava lei Don Tonino Bello, venerabile Don Tonino Bello che la pace lo ha testimoniata, quindi assolutamente il suo messaggio e soprattutto la sua testimonianza ci aiuterà un po' tutti. Mi vengono in mente questa sua frase che per me è straordinaria, ai segni del potere occorre sostituire il potere dei segni. Papa Francesco ricordando nella figura ha detto che sapeva agire localmente per seminare la pace globalmente, la grandezza delle parole di Don Tonino incentrate sul tema della pace. Assolutamente sì, probabilmente il discorso più importante della sua vita l'ha fatto qui a Verona, 30 aprile 89, di fronte a una folla emozionata, lui era ultra emozionato ed ha fatto uno dei discorsi più appassionati della sua vita parlando della pace, ma lui chiaramente la pace la declinava unendo alla pace la giustizia e unendo alla giustizia ancora la salvaguardia del creato. Giustizia collocata da Dio stesso accanto alla pace, testa più sospetto di quanto non desti scandalo collocata accanto alla guerra. Lui era avanti, stiamo parlando di 33 anni fa, 33 non credo sia un numero a caso, lui era già avanti, aveva unito tre cose incredibili. Era un uomo che era ferito dall'indifferenza, come avrebbe reagito in un contesto come quello attuale in cui stiamo vivendo, in cui quasi parlare di pace è relegato ai margini? No, avrebbe reagito in maniera forte, le sue parole ancora adesso sono di una forza dirompente, lui dice no alla guerra che è il più sacrilego dei peccati e lo dice forte e dice anche che non crede molto negli adulti che siano capaci di arrivare alla pace e confida molto nei ragazzi, quindi lui aveva assolutamente le idee chiare perché il suo motto era pratichiamo la pace, quindi la pace non era qualcosa di utopico, la pace era qualcosa che doveva essere costruita e aveva tanta tanta figura nei ragazzi. Tra queste parole ricordo quelle pronunciate amate Gesù Cristo, amate i poveri, siate costruttori di pace. Sì, siate costruttori di pace, lui lo declinava aggiungendoci in piedi costruttori di pace. Sulla sua tomba d'Alessano c'è questa scritta incisa su una pietra ed è una pietra che ha un valore simbolico enorme perché lui diceva che il popolo della pace non è un popolo rassegnato, non è un popolo di rassegnati ma è un popolo che sta in piedi, in piedi davanti al trono di Dio, in piedi davanti all'agnello, quindi non aveva nessun timore a dire che il popolo della pace era un popolo in cammino, un popolo assolutamente appassionato, credente e che si impegnava fino alla fine. Pensando a quello che ha fatto in vita, malato, andando nel teatro della guerra, oggi andrebbe in Ucraina sicuramente. C'è una famosa preghiera che lui scrisse per una preghiera di veglia per Oscar Romero, per il vescovo. Lui era assolutamente un estimatore del vescovo Oscar Romero. C'è l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, che ha sostituito in quella preghiera le parole Oscar Romero con le parole Don Tonino. E uno dei versetti recita in maniera incredibile, facendo richiamo al Papa affinché continui, Pietro lo chiama chiaramente, perché continui Pietro ad andare in giro per il mondo. Secondo me è un invito esplicito, e lo dico da Verona, è un invito esplicito a Papa Francesco ad andare in Ucraina. Di estrema attualità perché già lui, come giustamente anche sentiamo da Papa Francesco, univa molto la questione della giustizia, la pace e l'ambiente. Cosa che nella Laudato Si esplode come un tema centrale, una questione decisiva anche per il nostro futuro e il nostro presente. Poi sappiamo che lui aveva questa penna poetica affascinante, travolgente, che sapeva trascinare. E qui univa, era proprio una poesia. Infatti Beati, costruttori di pace, è interessante perché in greco si dice eirne poieoi, cioè coloro che costruiscono fanno poesia sulla pace. Si potrebbe usare un po' questo perché il termine poesia ha a che fare con il fare. E lui metteva in pratica poi quello che diceva e quindi la sua poesia si traduceva in una prassi molto profetica. Quindi è un uomo che non muore mai, sono quelle persone che sono sempre contemporanee e affascinanti sempre in qualsiasi epoca. Tra l'altro uno dei messaggi più incisivi, più affascinanti, pronunciati da Don Tonino è stato proprio detto qui a Verona. Beati costruttori di pace, io me lo sono rivisto, chiaramente la mia era un'altra età all'epoca, però riascoltarlo sembrava, sembra di sentire, adesso io faccio questo collegamento con Papa Francesco, ma per dire che sembra di sentire un'attualità perenne. Poi lui aveva anche questa idea di questa traduzione del termine Beati costruttori, stare in piedi, questo stare in piedi che lui lo concretizzava usando anche l'Apocalisse dove attorno all'altare ci sono questi martiri, questi testimoni in piedi, che è tipicamente atteggiamento di una postura da risurrezione e che indica anche una dignità che la persona esprime quando anche si dà da fare per cose dove ci si sporca molto le mani. Vi auguro un'oasi di pace, la strada vi venga sempre dinanzi e il vento vi soffi alle spalle e la rugiada bagni sempre l'erba cui poggiate i passi e il sorriso brilli sempre sul vostro volto e il pianto che spunta sia sui vostri occhi sia solo pianto di felicità. E qualora dovesse trattarsi di lacrime, di amarezza e di dolore ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarvele. Il sole entri a brillare prepotentemente nella vostra casa e portate tanta luce, tanta speranza e tanto calore. Grazie per la visione!